Siamo a Roma, da questo argene del Tevere inizia quartiere Prati. Andiamo a incontrare lo studio Labix, Maria Claudia Clemente e Francesco Isidoria. Il nostro modo di approcciare il progetto è, primo, sperimentale. Facciamo molta ricerca e per tutti i progetti la fase iniziale, che è la più lunga, è quella di cercare la risposta migliore alla domanda che vede da ogni progetto. E lo facciamo attraverso molti plastici, molti modelli, pochi schizzi, in una fase molto analitica. Quindi la fase di ricerca nel nostro lavoro occupa un grande, grande spazio. Come vi conosco, il discorso del passaggio della soglia, degli spazi, dentro gli spazi è molto importante. Questo si percepisce anche nella città, quando una vostra architettura entra in una città. Sì, è uno dei temi di ricerca, questo del rapporto tra l'edificio e lo spazio pubblico. E quindi cerchiamo sempre di progettare edifici o spazi pubblici che in qualche modo interagiscono tra di loro in modo tale che l'architettura non interrompa la continuità della città. E anzi, spesso lo spazio pubblico entra dentro gli edifici, lo attraversa in una promenade continua ed è una delle sfide, penso, in questo momento dell'architettura. Per chiudere questo breve sommario, la destinazione d'uso dell'edificio cambia il vostro approccio progettuale o cercate di tenere sempre delle linee di guida che poi sono declinate ovviamente nel contesto? No, direi che il metodo non cambia. È chiaro che la fase di ricerca cambia. Cambia quello che cerchiamo, come lo cerchiamo, le sperimentazioni che facciamo. Il metodo non cambia, ma non cambia neanche alla piccolissima scala e alla grandissima scala. Il metodo di lavoro è molto rigoroso, è abbastanza, come dire, omogeneo, costante. Cambia poi l'oggetto della ricerca, quello sì, ovviamente poi spaziamo in campi diversi, ma il metodo è abbastanza coerente e costante. Per arrivare agli strumenti della progettazione, prima di iniziare questo nostro viaggio nei vostri progetti recenti e meno, la materia, i materiali, hanno avuto un'evoluzione incredibile negli ultimi anni. Come vi rapportate ai nuovi diritti alla materia? Guarda, innanzitutto la materia è un elemento importante del progetto e ogni progetto ha la sua materia. Non siamo monomaniacali nel cercare di attribuire, di usare pochi materiali, perché pensiamo che ogni occasione abbia una sua materialità specifica, per cui ci sono gli edifici che devono essere in cemento, gli edifici in acciaio, e chi più leggeri in vetro, quindi il legno stiamo utilizzando ultimamente. Insomma, crediamo che sia un elemento molto importante. Partiamo allora con questo viaggio nei vostri progetti. Da cosa iniziamo? E ce lo racconti in due minuti. Iniziamo da una cosa piccola, da una piccola casa che abbiamo fatta a Roma, davanti al Pantheon, che è una casa privata. Ecco, e qui è molto importante magari non tanto descrivere il merito del progetto, ma raccontare come anche in una casa abbiamo cercato di fare quello che raccontava prima Francesco, cioè portare lo spazio, differenziare il progetto, spazio pubblico, spazio privato. In una casa cosa vuol dire? Invece di una casa molto stretta e lunga, una casa, diciamo, tessuto medievale, non un palazzo ricco, normalmente c'è un corridoio e poi le stanze infilate. Noi abbiamo proposto ai committenti di eliminare il corridoio e di rendere questa casa una stanza dentro l'altra, come si faceva nei vecchi palazzi nobiliari. Il che vuol dire però che quel rapporto pubblico-privato, quel rapporto di stanza privata e corrido di distribuzione, come nei palazzi vecchi, non c'è più. E questo ha implicato una rivoluzione anche domestica per loro, inventarsi un nuovo modo di vivere, in cui ovviamente il genitore per andare a dormire passa per la stanza di figli. Noi dubitiamo che i figli siano contenti di questa cosa che è accaduta, però i genitori sono molto contenti. E questo, ecco, di nuovo vi dia ragionamento che portiamo anche a una piccolissima scala. Per quanto riguarda i materiali, ecco, questo è anche interessante, stando a Roma e volendo fare una casa romana, ma comunque, come dire, contemporanea, abbiamo sperimentato materiali su cui noi non avevamo lavorato tanto, a questo tipo il marmo, l'ottone, il marmorino, quindi abbiamo utilizzato materiali tradizionali, perché in quel progetto erano giusti, non faremo mai un edificio in ottone, ma a quel progetto erano giusti usare quei materiali e abbiamo sperimentato un uso contemporaneo di materiali per noi nuovi, che ci sembravano corretti però in quel progetto specifico. E quando si interviene in questi termini, probabilmente il primo a essere sacrificato è il pavimento, per ovvi motivi, perché si vedono i frammenti, si leggono. Quindi in questo caso immagino abbiate ricostruito alcune porzioni. Abbiamo mantenuto la struttura spaziale della casa originaria e abbiamo lavorato all'interno della sequenza spaziale originaria. Poi ovviamente il pavimento l'abbiamo rifatto, è in marmorino, è in legno, è una casa a due piani, il piano terzo, secondo, è lo spazio pubblico, il soggiorno, la cucina, eccetera, eccetera, e il quarto sono tutte all'infilata delle stanze da notte, delle stanze più domestiche. E quanto entra all'esterno, è un luogo unico nella casa? Beh, in quella casa entra tanto, non tanto perché le finestre sono molto grandi, ma perché affaccia la finestra terminale di questa lunga promenade, si affaccia sul pantheon, quindi si vive, quindi l'esterno entra moltissimo questa volta nell'interno, perché hai il pantheon dentro casa proprio. L'architettura perfetta. Esatto, è proprio l'architettura perfetta, su quello siamo tutti d'accordo. Parliamo di un altro progetto. Sì, uno dei progetti a cui teniamo più di tutti è sicuramente il Mast a Bologna, forse è stato il primo grande progetto che abbiamo realizzato, non progettato, ma insomma realizzato. Un progetto per un committente straordinario che un po' di anni fa ha fatto questo concorso con alcuni bravi architetti italiani, e noi eravamo i più giovani, diciamo, per fare un centro di eccellenza dove coniugare alcuni servizi dedicati all'azienda, come un ristorante aziendale, un asilo nido per i figli dei dipendenti, una palestra e altre cose, e invece coniugarle con attività anche pubbliche, uno spazio espositivo, un auditorium, un'academy. E quindi è un edificio, sebbene privato in termini di proprietà, pubblico di fatto, aperto alla città, che costruisce un ponte tra l'azienda e la città. È una vostra indicazione o era una richiesta del cliente committente? Era una richiesta sottesa nel bando, non in maniera così esplicita, e noi abbiamo cercato di farla diventare architettura a questo punto, quindi l'edificio si apre completamente verso la città, ci sono due grandi rampe che estendono idealmente allo spazio interno dell'edificio verso la città, per cui è completamente permeabile, poroso, si lascia attraversare, è un sistema urbano, non è proprio un edificio vero e proprio, perché si compone di diverse anime, di diverse parti che sono tenute insieme come in una città da un tessuto di strade, di piazze, di portici. Gli scrittori di questo genere in qualche modo lanciano nella professione, ma sicuramente costituiscono anche un manifesto e un punto di partenza. Come hai detto giustamente abbiamo in qualche modo forzato la richiesta del bando e portando a prendere ancora di più. Vi è successo anche in altre situazioni di forzare la mano? Eh sì, abbastanza. Beh, magari inizio io, poi può finire Claudia. L'idea che l'edificio possa partecipare della vita della città e dello spazio pubblico è diventata inizialmente, è nata appunto forse come un'occasione, ma poi è diventata una nostra ossessione, per cui oggi cerchiamo di farlo in tutti i progetti. Il secondo grande progetto dove abbiamo in qualche modo cercato di forzare la mano è stato Città del Sole, dove in un edificio, in un intervento, che benché frutto di un concorso pubblico, un intervento privato, sostanzialmente di spazi residenziali, uffici, spazi commerciali, abbiamo cercato di fare tutto l'opposto di quello che normalmente uno sviluppatore privato cerca di fare, cioè di chiudere il proprio recinto e separare la dimensione pubblica da quella privata. Invece il nostro intervento, che si compone di cinque edifici, è fatto in una serie di promenade, di passaggi pubblici, di piazze, di terrazze che diventano piazze pubbliche in quota, insomma un brano di città in cinque edifici, e quello è stato un altro progetto divertente. Diciamo che quello che ci interessa è superare la dimensione dell'edificio come oggetto, come dire, come un oggetto che tu poggi in un luogo, senza nessuno, come un oggetto, noi diciamo un oggetto di design, che è la grande differenza fra il design e l'architettura, non è il rapporto con l'oggetto design, ha in sé il fatto di essere atopico, un'architettura invece ha una relazione con il luogo, dovrebbe avere per noi una relazione con il luogo. e quindi questo scardinale l'idea dell'oggetto iconico che è stato l'ossessione degli architetti negli ultimi vent'anni, ma di riuscire a far sì che l'architettura riesca a contribuire alla qualità dello spazio urbano, alla sua dimensione urbana, per noi è una cosa veramente prioritaria. E quindi in questo caso in termini chiave come rigenerazione pubblico-privato vi state declinando in maniera un po' differente rispetto alla storiografia, diciamo? Beh, noi pensiamo che se l'architettura riesce a contribuire alla qualità dello spazio urbano, lo spazio pubblico in realtà sia uno strumento importante di rigenerazione, perché la rigenerazione non si fa solo con l'edificio, si fa soprattutto con il piano zero, si fa soprattutto con lo spazio vuoto, quindi tra l'altro queste cose sono ormai state sperimentate in tante parti del mondo, da Medellin a Berlino alla Germania dell'Est, cioè che la qualità dello spazio vuoto e dell'infrastrutturazione dello spazio vuoto è più importante degli edifici, possono essere più o meno belli, ma... Grazie a tutti!